Entra Bresciano e c'è Del Piero che sostituisce di acquinta, preda di Crampi, sul solito calcio di punizione, studia la corsa e il tiro Alex Del Piero, non c'è scampo per Agliardi, siamo al 25esimo, è il gol del 3-0. Del Piero è entrato da pochissimi minuti, ecco la traiettoria imprendibile per Stendi Govescio, entra Palladino ma osservate con che grinta lo rimprovera Del Piero, il suo capitano, anche il suo maestro. Succede anche questo in Juventus-Palermo che non finisce qui perché siamo in chiusura di partita, 46esimo, Biava interrompe la corsa di Pavel Negri per Sacani e calcio di vigore e sul dischetto si presenta naturalmente Alessandro Del Piero. Ed ecco il gol del 5-0, 139 gol in Serie A, superato vero esame di credibilità per questa Juventus in costante crescita, ma il Palermo che batosta. A voi studio.